Si tratta di un decreto che per la prima volta affronti in maniera organica l'emergenza abitativa. In particolare abbiamo istituito un fondo anche per le famiglie che senza colpa hanno subito uno sfratto, abbiamo diminuito le tasse sulle case in affitto dal 20 al 10 per cento e infine abbiamo istituito un fondo per ristrutturare, per costruire nuove case popolari.